Cosa vuol dire ostracizzare? Nell'antica Grecia ad Atene, nella culla della democrazia, gli antichi Atenesi, per evitare che qualcuno potesse prendere troppo potere, avevano stabilito che chi riceveva un certo quantitativo di doti dovesse essere allontanato dalla città per dieci anni, dieci lunghi anni per impedire che questi prendesse troppo potere e diventasse dittatore. Ostracizzare deriva da ostracon, che era il coccio di vaso su cui le persone che diventavano troppo potenti, al punto tale da poter diventare dittatori, venivano allontanati per dieci anni. Ciao, al prossimo video. A presto.